buongiorno a tutte donzelle messeri sono coro lili e oggi sarò la vostra arwen di quartiere so benissimo che arwen non ci azzecca una fava con il trono di spade ma ce la facciamo stare eravamo rimasti ad alto colle stavamo andando alla fortezza dei white il vi ricordate abbiamo il loro figlio avevamo promesso di rimanere tranquilli beh siamo rimasti come hai fatto a saperlo non lo so io mi fido di lei però non mi fido di suo padre non è certamente colpa sua abbiamo fatto bene secondo me a portare l'adric ah è perché invece quando loro erano all'interno delle nostre mura andava tutto benissimo chi è la donna incinta ah ok quindi griff era nella pancia alla cittadella quindi è diventato è diventato un master un maestro già ah forse è morta dando la luce su martello ah no ma poi è essere gentile con lui strano che lei è così giovane e così bella non si sia ancora sposata o forse è sposata non mi piacciono tutti quei balestrieri lassù pronti a scoccarci una freccia del coffino non sarà una trappola vero? no eh sì ho capito però già ok un'uscita non sorvegliata beh lei è uscita da qui però sicuramente sarà sorvegliata vado il legno ferro facciamo noi questi porta laterale chiusa vediamo se Serroiland ha trovato un'uscita forse queste scale è sorvegliata è sorvegliata è sorvegliata non lo capisco cioè vogliono prenderci tutti come ostaggi beh a sto punto è l'ingresso principale non ho capito ci ha atteso una trappola Gwynn ci ha fregato lei mi sa ma forse no forse non c'è atteso una trappola lei dobbiamo pranzare con quei tizi che ci puntano le balestre non lo capisco no Non si parla di parlare. Se tu mi chiedi, credo che è un'envio. Il punto di vista è molto impressionante. Si è, rispetto ad il tuo pile di timbre. Lod, dove è Ryan? Sempre preoccupi con la tua famiglia, non ti? Let's toast! To family! Non ti toast con me, Roderick? To family. To family. Madonna ragazzi, ho una paura di quello che succederà. Si sono andati per la destruzione. Ma... Si. Tu conosci più di Ironwood di ogni casa in il mondo. E' un peggio per tutto quello che saperebbe perdere. Help me craft Ironwood per i Boltons. E? E' sicuro che i tuoi forestieri succedenti. Come se si proteggivano noi. E se pensi che puoi imparare. E tu proposte un'alliance? Un'alliance? Non ho detto nessun tipo. Lui ci saranno i nostri scegli. Roderick, questo potrebbe salvare la tua casa. Io considero un'alliance. Già Ma noi dovremmo diventare i loro schiavi? No Quindi? Se mi ha ricordi, ti dàu la ringa. Viene? E' da' come, Roderick. E' da' come, di agree to my terms, oi i'll have Griff tear ironrath to the ground. I'll put it to the torch! This isn't the way to get what you want! Then begins smoldering your smallfork! Griff's no longer in charge of ironrath. What are you talking about? He's locked in our darkest cellar, Ah, adesso cosa dici? Grazie a tutti! Do you think I give two shits about Grif? About my fucking fourthborn? I want to kill you right now! Because you foresters never learned. I'm not afraid of you! Can I fucking murder him yet? Try it and you'll die! Help me! Let him go! I'll kill you. Fine, I'll take your Ironwood deal. If you make the trade. Come on, Lord. Things don't have to end this way. You're lucky I know mercy. Ryan, come here! No! No? Make the trade on neutral soil. Grif for Ryan. A son for a son. Cioè, realmente non gli importa del suo quarto genito? Fine. Now, get the fuck out of my hall. Cioè, questo era quell'incredibile piano che le aveva pensato per salvare la nostra famiglia? Per il piano di mezza. Grande, Ryan. Ryan deve essere salvato. È un Forrester dalla punta dei capelli fino ai piedi. Andiamo a riuscire a bloccarli in tutti i modi. Non lo so. How many men do you think are in there? Hard to know for sure. At least five, maybe more. To answer your question, too many to fight head on. Is that a harpy? Course it is. Those golden tits are everywhere in this bloody city. If those guards light the rope, the fire travels up to the bowl and the whole city will know we're here. So we stop them. Aye. Ok. E qui ci sono delle guardie. We'll need to take those two out first. Come on, let's get moving. Berska? Berska. It's nothing. Just forget it. Fine with me. Great. I'll take him. I've got the other one. Just keep an eye on her. I don't need him to watch me. Improve it. Sì, in effetti prima non si è comportata proprio... Just sit outside the gates waiting. Mother of dragons. She wants to sleep. Ok. Fuori due. Non ho capito. Qual è il problema adesso? We'll split up. One group will go high and try to climb over to the other side. What about them? That's why someone needs to stay down here. They get behind cover and shoot the men up top. Just don't let that one see you. Dall'alto? Quindi dobbiamo praticamente saltargli in testa? Which let me? Vai in alto. Scala le mura. We'll go over the top. You just make sure you clear the way. Per scalare le mura dobbiamo fare fuori quei due. Ok. Benissimo, lui ci copre con la balestra. Ok, non ho sentito. Vai, un po' di parkour. Cosa? Silenziosi come dei gatti. Decisamente sì. Anche se, oddio, probabilmente avrei avuto più difficoltà con la balestra. Sono tu ferito? Che cavolo ha fatto a farsi ferire? Stava dietro i barili con una balestra. Sono tante guardie. Forse dovrei chiuderla. Esatto, così non possono uscire. Ok, quello sopra non si è accorto di niente. Brava besca. All clear down there? Hey! You... Vai! Bam! Ok. Ma quanti sono? Ha messo un barile davanti alla porta Dai Sono gli ultimi No, 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 atteniamoci al piano Atteniamoci al piano, Beska Che la possiamo fare? L'altro Oh no 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 Ok Ok Well hello Rani Beska No, no Oh Oh no Mamma mia Ragazzi Mi sta pigliando male Ce l'abbiamo fatta? No No, 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 no Dai Dove? Cosa? Qua Ok, non pensavo di farcela Questa è L'abbiamo fatta L'abbiamo fatta Gli schiavi liberi Gli schiavi liberi È start